Ruolatrici e ruolatori, buongiorno, buon fine settimana, buon venerdì, siamo tornati a un'altra puntata di Tank Shot It's Friday Oggi sono solo in ufficio, quindi sono con Ottone, che naturalmente spacca le balle perché vuole stare sulle sedie Voi dovete sapere, ormai lo conoscete, Ottone al gru sulle sedie, ma è molto offeso perché non lo sto considerando Quindi mi sta dando le spalle, chi conosce Ottone sa che è un cane estremamente permaloso Quindi come potete vedere qua, mi sta dando le spalle E tra poco scenderà, farà casino Siamo tornati, sì Ottone, sono qua, sono qua, sono qua, ecco saluta, vedi, guarda ti vedi che ti vedi, bravo bravo E sono tornato perché volevo fare tutt'altro oggi, volevo fare una one shot o di Actun Cthulhu o di Soulbound Ma ci è tornato finalmente Cyberpunk So che molti lo stavano aspettando, purtroppo ragazzi e ragazzi sapete che la situazione della carta l'è quel che l'è È un po' un casino, aspetta Ottone vuoi scendere? Vai, scendi È un po' un casino Quindi c'è finalmente tornata la carta e adesso finalmente è tornata in stampa Cyberpunk Quindi sono veramente contento Ciao Nico, ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo Ciao Lucien, ciao Osgard, ciao Geronimo, ciao Vicky, ciao Astrid, ciao a tutti quanti ragazzi e ragazze Allora, volevo fare una one shot di Cyberman, volevo continuare ad essere sincero la vecchia Tank Shot is Friday Così possiamo fare una B-Shot, no? Non so se vi ricordate quando eravamo scritta assieme, comunque la rivediamo velocemente tutti quanti assieme Così vediamo che cosa possiamo andare a scrivere Allora, ve la smetto qua Grazie, grazie, sassorotolante, ho detto sassorotolante, ho detto interessante come... Allora, ecco qua la vecchia one shot Vai Ottone, vai, scendi, prendi il coraggio Niente, non vuoi scendere Ok, allora Ci dispiace per il tempo di attesi innanzitutto in questo manuale qua Non vi nascondiamo che è cambiato tutto il sistema di stampa È cambiato tutte le economie di stampa Non ci possiamo fare nulla Purtroppo già la situazione prima era un disastro Adesso quella guerra di mezzo è un altro disastro Sinceramente il gioco di ruolo passa un secondo piano Come è giusto che sia Quindi le cose arrivano quando arrivano Quando arrivano noi vi informiamo subito Sì, 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 grattini, grattini Allora Vai, vai giù Vai Bravo Via, la sedia te la metto qua Così se vuoi salire, sali qua e non spacchi le balle Bravo Ottone Allora Vorrei vedere con voi la prima 10 Shot is Friday Perché ovviamente non... Non mi ricordo assolutamente nulla L'abbiamo scritta che era fine giugno, se non sbaglio Quindi figuratevi, non mi ricordo cosa ho fatto la scorsa settimana Figuriamoci fine giugno Ma alla fine 10 Shot is Friday serve esattamente a questo Ovvero come scrivere una One Shot in tempo 1 Nico, non ne ho la benché minima idea Non è V2.0 esplicemente perché la 2.0 è il... È la seconda One Shot, non Cyberpunk Red 2.0 È la One Shot 2.0 Cioè che sia chiaro Non c'entro senti nulla con il manuale Il manuale è i stess, i stess identico Devo aprirlo anch'io perché la mia visione è disintegrata da quanto l'ho usato Voi sapete non sono proprio bravo a trattare bene i manuali Quindi ne ho preso un altro Ho la fortuna di poter prendere quanti manuali voglio Almeno questo Allora, vediamo di cosa trattava la vecchia One Shot Perché non ho un... non ho Alba proprio Allora, la sessione inizia è l'After Life Vabbè, il locale, quella da Upper Marina Gestito da Rogue, uno dei personaggi più iconici di CP Red Qua i giocatori faranno conoscenza di un Fixer Che darà loro un incarico Devono portare una cassa a Don Michael De Angelo A capo della famiglia che esercisce tutti i traffici illettici di Little Europe La cassa siamo della Rasaka sopra I giocatori non viene detto il contenuto Perché devono consegnarla e naturalmente viene evitato loro di aprire la cassa Perché se hai ragione, che strano Ciao Dario La cassa in realtà è praticamente vuota E contiene solo un oggetto personale legato ad un parente del Don La Rasaka l'ha rapito per far sì che il boss non si metta a conto d'accordo Se il giocatore vuole aprire la cassa Lo stile del Drabble contro il significato è l'oggetto rivenuto al suo interno Nota per il Master Descritto il più possibile l'After Lai spiegate perché i drink I... no, i drink Ecco il regno anche qua Perché i drink Hanno i nomi delle leggende di Night City Insiede qualche elemento caratteristico E uno dei posti più importanti caratteristici di Night City Godetevi La Rasaka mette in disposizione dei giocatori un furgone Ehm Fateci i giocatori La cassa continua la lettera di sfida Se per i video che avranno pubblicati Non è la futura pubblicazione Viaggio Mentre i giocatori sono in viaggio all'after e fino all'Ital Europe Vengono attaccati dai Voodoo Boys Sono a Gandhi, Booster, Caraibi, Cicos, variati innesti I nemici sono due motociclette Due sono di un buggy modificate E uno su una più appariscente degli altri Su una motocicletta croppata È il capo La moto ha 30 punti struttura Al combattimento Deve essere spettacolare Ok Villa De Angelo Un'era volta arrivati a casa di De Angelo I giocatori per ieri sono feriti Il furgone pieno di fuori proiettile Dieci scagnozzi del boss Si alza e accoglie gli eroi Il boss è per davanti ai giocatori La cassa Riconosce immediatamente l'oggetto di proprietà Di un suo patente Ha la patente Il parente di guida Chiama follemente Folmant E richiude la cassa Fa schioccare le dita Schiccare Schioccare La casacca vuole la guerra Adesso ditemi Chi vi ha badato qua Tra qui li potete parlare Con lo senza denti Magari anche senza qualche altro Mi sembra Mi sembra giusto Cioè Questa Allora Questa one shop Ha esso un ottimo inizio di campagna Con i giocatori che possono andare a chiedere Chiaramente ai fixer Oppure allearsi con il clan De Angelo Starà loro a vedere cosa fare Lo scopo è quello di lasciare la stessore Con un climax Ok Solito bordello totale Che è capitato Quindi mi sembra abbastanza Nell'ordine di cyberpunk No? Cioè succede un casino allucinante Via Grazie Void Grazie Void per il ride Grazie Grazie infinite Allora ragazzi Vi dico già che Alle due Purtroppo devo scappare Perché è una riunione Quindi abbiamo Un'ora e dieci Ancora meglio Così vi faccio vedere In quanto tempo si fa Scusa che metti in silenzioso Perché se no esplode tutto Qua oggi lo so già Ok Perfetto Allora Sì sì Oggi oggi Ovvio ovvio Per iniziato Per iniziato Marco Quindi non ti preoccupare Ordine al corte Dice che martedì Inizia la sua campagna Rifrabula Perfetto Oh ieri a Osgard Inizia a dare regalato L5A Domani noi continuiamo La nostra campagna Quindi c'è Eccellente Allora Allora One shot One shot 2.0 Vi ricordo che dopo il link Lo metteremo Sennò comunque è sempre Il vecchio link Della vecchia Naturalmente La scriverò con voi Questa Questa one shot Quindi Noi abbiamo I giocatori che Sono stati mandati Da un fixer A casa di De Angelo A casa di De Angelo Hanno portato Questa cassa Della Rasaka Dove aver combattuto Contro una banda Di booster Qua c'è lo scontro Allora Google Drive Il mio Drive Attacchete Il mio Drive Dov'è? Dextro Eccolo qui Twitch CP 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 Cyberpunk Manuale base Eccolo qua Così almeno Abbiamo anche Il manuale base Di CP Da poter Spulciare assieme Come sapete Cyberpunk È Un'ambientazione Molto sporca Molta violenta E via dicendo Quindi Una cosa che consiglio io Quando si scrive Un one shot di Cyberpunk Mi raccomando Esageriamo sempre È bello esagerare in tutto Guarda Dettilo via Ottone Ottone Molla Molla la sedia Bravo Ok È bello esagerare in tutto No? È bello Sgravare Come si suol dire Quindi C'è Esageriamo Noi ci troviamo davanti A casa di De Angelo Facciamo adesso Un flusso di idee Come se fosse un mega brainstorming Quindi voi scrivete a manetta Le idee che vi vengono in mente Io vedo quelle più 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 C'è un oggetto appartenuto A un parenti De Angelo Come lettera minatoria In poche parole Dice a De Angelo Che non deve rompere le palle Alla rasaca E a De Angelo Gli girano un pochettino i ball E quindi chiedono Voi spiegazioni Pietro Non ti prendo neanche in considerazione Un toro metallico Cosa c'entra? Cosa c'entra adesso un toro metallico? Quindi Che cosa possono fare? Considerate che Se fosse una campagna normale Il master si trova a questa situazione qua Può O chiedere Ricordatevi Si può sempre chiedere ai giocatori Cosa volete fare la prossima volta? Volete andare a parlare col fix E chiedi spiegazioni? Volete andare alla sede della rasaca E fare guerra con De Angelo? Volete andare a cercare scagnozzi in giro? Sì si sono comportati molto bene Da una rissa da bara A una guerra col nu Sì fondamentalmente sì Quindi c'è Cosa possiamo fare? Un karaoke a tema K-pop Nella rasaca sì ci potrebbe stare Considerate che la rasaca Sono come dei moderni samurai Una moderna yakuza Dove però le spade ci sono sempre C'è questo qua è molto bello Mi piace sempre molto Mi piace sempre molto Il fatto della rasaca Se volete vedere il classico esempio di rasaca Un bellissimo esempio di cyberpunk Ragazzi Io lo dico sempre Guardatevi Johnny Mnemonic Johnny Mnemonic è una delle cose più cyberpunkose Che se non è mai state fatte In assoluto È incredibile Meraviglioso Per la giù di barchino Poi ho smesso di fumare Sono usato la sigaretta elettronica Quindi Questo bellissimo vapore profumato Che ci sarà in giro Visto che voi non decidete Decido io Che alla fine è la cosa migliore Così Sono il master Quindi devo scrivermi La one shot Allora Pam Innanzitutto qua Inizierei la sessione Con una bella scazzottata Quindi Inizio Sessione Con una Poi naturalmente Gli errori che avranno fatte Adesso mette schivo Li correggerò dopo Quindi sapete Quei miei problemi Si incacchiano dure Per i girischi Per i 6 botte È durissimo DJ Prenamente d'accordo Prenamente d'accordo Quindi faremo 3 scene Come sempre Usate che ogni scena È all'incirca Mezz'ora e 40 minuti Quindi Due ore un quarto Ho fatto più i divini Del Cyberpunk si presta bene A robe steltose Una bella infiltrazione Ovvio Ordino al core Si presta da dio Cioè così Perché c'è il netrunner Che va a disabilitare Le varie cose Ci stanno eh Le missioni sono sempre quelle Voi siete dei cyberpunk Quindi fondamentalmente Voi dovete farvi Conoscere Il vostro scopo Lo scopo ultimo Di un giocatore di cyberpunk Sarebbe quello Di avere un proprio drink Quindi titolato A suo nome All'interno dell'afterlife L'unico problema È che per avere un nome Un drink ha proprio nome Devi morire Però Nel senso No È un gioco Parecchio mortale Cyberpunk Non mortale come un old school È un SR Mortale nel fatto che Se ti sparano addosso Con un bazooka Muori Ma guarda P.E. Se si alleano Non servono neanche Trovare le armi Perché se si alleano Glieli danno loro Sconto obbligatorio Se vinco arrivano altri Li consigliano ad arrendersi Se perdono Si risveglieranno Poco dopo In ogni caso Avranno gli nesti esplosivi Lavoreranno per il boss Trito Ritrito Insomma per dare pepe Allora Sassorotolante È un'idea bellissima Quello che dici Trito Ritrito Considera che Quando fai le one shot Di questi giochi qua Servono per introdurre Nuovi giocatori O anche giocatori navigati Però a un gioco nuovo Quindi inserire Le I trope Di cyberpunk O i trope Di questo genere qua Va benissimo Per le one shot Se nessuno Ha mai giocato Una campagna di cyberpunk Non avrà mai Avuto pg con innesti Non avrà mai Parlato di traffici Non avrà mai Avuto modo Di conoscere La rasaka O la biotech E via dicendo Quindi ci sta Ci sta a utilizzare I trope Quindi inizio Una bella scazzottata Bella scazzottata Con dei booster Metterei Dei booster Abbastanza Deboli Ma In un numero Interessante Parlavamo di dieci Dieci booster Base Allora dovrebbe esserci Vediamo un secondo Sul manuale Vedo qua Allora Le proprio Non mi ricordo Senti dove sono Gag di nice city 308 Voglio vedere se c'erano No qua non ci sono Quindi andiamo a pagina 400 Andrei a inserire Un po' di nemici Che dovrebbe esserci Eccoli qua Perfetto Allora abbiamo Guarda il copo booster Questo qua Quindi io ci faccio Pam Ci faccio un bello screen Oplala E ci ficchiamo Vediamola Mi sembrano Un pochettino Sgravati Per metterne dieci Vediamo come possiamo Andarli a modificare Allora Hanno 20 punti ferita Io ne metto Io li abbasserei Fanno 4 di 6 Digitaliamo i 2 di 6 No possono essere Sì gli orsetti Gonzo Esplosivi Ci sono sempre Ovvio Bello Bello Kito Allora Sediamoci tutte queste idee qua Allora 10 booster base Modificati E diminuendo I pf A 12 Ok I pf A 12 I danni Allora Non so Cosa facciamo Li facciamo sparare Ciao forge Li facciamo sparare Oppure no 4 di 6 Sono un bel po' di danni Eh Io li farei usare Le digitolame Un che fanno un bel po' Cioè Posso fare un bel po' di danno C'è Arminabischiano 11 eh Cioè non è poco E' un bel po' Sì sono già belli frediti Eh pugnaro Vogliamo vedere se fare Un Un combattimento come per dargli una lezione no Quindi c'è perché appunto Il de Angelo Gli dice Eh bene Evidentemente la rasacca vuole la guerra Adesso ditemi Chi vi ha mandato qua Tranquilli Potete parlare con o senza denti E magari anche senza qualche arto Quindi non vuole ucciderli Quindi bravo Io direi Dipende di pf12 Eh Solo Eh Cazzotti E digitolame Digitolame Togliere Eh Digitolame Digitolame Eh Togliere la pistola pesante Pistola pesante No c'è Pistola molto pesante Togliere la pistola Molto pesante Così almeno un attimino Più tranquillo Allora Esito dello scontro Quindi abbiamo un bel combattimento Durerà un po' eh Ce ne sono dieci Ricordatevi che Come insegno al buon Sly Furish Iniziare una sessione Con un bel combattimento Ti butta subito in media stress E ti rende Bello Galvanizzante il tutto Quindi Ci sta Allora No Allora Sta struttolante Voodoo Boys Sono sempre un po' Un burdel Io metterei Vediamo un po' Che gang Perché magari possiamo Andrere ad assoldarle Allora Le gang Cosa ci sono Sesta strada I bozos Gli inquisitori Gli iron sight I milestone Philharmonic vampires I piranhas Pramtime players I reconners I red chrome legion Neofascista No Sti schifosi maledetti Non voglio neanche vederli Tiger clothes No Tiger clothes Sono legati Alla rasaca Però potremmo fare Un colpo interno Con i tiger clothes Che cercano Di ribellarsi Alla rasaca Per avere l'indipendenza Perché Scusate che La rasaca gigante Non esiste più Ci sono Del micro corp Che però In realtà Sono Dietro C'è l'eminenza grigia Della rasaca Che gli sta Controllando Potremmo inserire Tempus Io non faccio vedere Il play Non c'è nessuno Le persone possono Partecipare Come spettatori Sul discord Il giovedì sera Noi Questo giovedì qua Ieri sera è saltato Perché io sono stato A lucca comics Tutto il giorno Per parlare di Di robe di lavoro Per questo lucca comics Sarà domattina Dalle nove All'una Ci sarà la sessione Nove nove e mezza Fino all'una Se qualcuno Vali a casa E vuole vedere la sessione Può esserci Tiago se lo ricordo Vale Erano stati fondati Sì esatto Sasso Erano stati fondati Però erano controllati Dalla rasaca Adesso sono indipendenti Sono i protettori Della comunità asiatica E sono tre fondatori Di Japantown Facciamo così Mi piace Allora Mi piace Il Tigre Close Allora Dopo la scazzottata Probabilmente I giocatori Saranno Se avranno la meglio I giocatori Se avranno Avuto La meglio No Se hanno Ragazzi Ricordatevi Scriverete sempre al plurale Non al futuro Se hanno Avuto La meglio Sono Molto feriti Molto feriti Se invece Hanno avuto La peggio Sono ben conci Sono Feriti ugualmente Feriti ugualmente Ma Spogliati Da tutte Le armi In entrambi I casi Don Angelo Offre Loro Il doppio Di quanto Dato Il doppio Di quanto Pattuito Dal fixer Per Allearsi Con lui Oppure Se non vogliono Tradire Perché No Noi non possiamo Tradire Vogliamo Abbiamo il nostro Onore Via dicendo Ci può stare Ricordatevi Sempre questo Sempre lasciare La possibilità Di scelta Ai giocatori Mai Mai Indirizzarli Verso dove volete Andare voi Mai Far leva Sui loro Sentimenti Sentimenti E Chiede Loro Di portare Un messaggio A Al fixer Affinché Lo consegni Alla rasaca Così Non ci sono problemi Non sono mai giocato A cyber Non posso partecipare Cosa C'entra Pietro Non capisco Cosa c'entra Questa frase Spiegamela Perché Non ho capito Scusami Così possiamo Inserire il fatto Che In entrambi i casi I tiger Clothes Possono essere Alleati O possono essere Nemici Ma magari Possono consegnare Anche a loro Il messaggio Chi è stato Rapito Che oggetto C'era Dentro la cassa Visto che Adesso Abbiamo detto Che si trattava Di un parente Del boss Potrebbe essere Un figlio Potrebbe essere La madre Potrebbe essere L'ex moglie O qualcosa del genere Allora Nell'attuale campagna Di cyber Percretti Il Netrunner Ha un coniglio Come arrivare Da compagnia Un fixer Per dare motivazioni Più al Netrunner Ha rapito il comiglio Ricordiamoci Che il mondo sporco E cattivo Beh sì Certo Se mi rapisso L'ottone Io impazzirei Madonna Mio ottone Se ti rapisso Lo impazzirei Di dolore C'è il mio cane Che sta dormendo Così a pancia all'aria Tra parentesi Quindi c'è Una Oh Vuoi che gli ha rubato L'anivale Domestico Keto 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 Nella cassa Nella cassa Il boss Spiega Che c'è Il ciondolo Di sua figlia Che non è Stata rapita Ma è andata Di sua volontà A lavorare Per La rasaca Poiché Innamorata Di uno Dei membri Il messaggio Ricevuto Ha un doppio Significato Uno Tua figlia Lavora Per noi Due Possiamo ucciderla Quando vogliamo Bellissimo Bellissimo E terribile Allo stesso tempo Allora A questo punto Si aprono Altri scenari Del senso O Il boss Dice Dovete andare A rapire Mia figlia A Japantown Bello Mi piace Mi piace Warat Mi piace E tua figlia Lo sa Bellissimo Bellissimo Siete Degli schifosi Bellissimo Le è piaciuto Il membro No ordine Alcor Per favore Non ste battute Del cazzo Per cortesia In tutti i sensi Veramente Non voglio dire Ste battute Qua del cazzo Non mi piace Il finale Potrebbe essere Che Angelo Viene ucciso Dalla famiglia Bello agre Bello agre Un padricidio Pesante Pesante Non pensare Mai al finale Il finale Bisogna pensarlo Solo nelle one shot Investigative Il finale Viene Quello che Dici danno i giocatori E man mano Che lo scrivi Bravo Docta Mai dare un finale Mai dare un finale Esatto Allora Cosa volete Che facciamo Ditemelo voi Scegliamolo assieme Devono andare A rapire la figlia Devono andare A consegnare Un messaggio Devono andare A rapire Un membro Della Razai Fa molto Fa molto Romeo e Giulietta Cyberpunk Red Un cyber Romeo e Giulietta Mi sta piacendo molto Ormai siete di famiglia Allora Grazie Docta Grazie Per il suo Rapire la figlia Senza essere visti Mi piace Mi piace Anche io sono Poi una lezione stealth Allora A Japantown Io Direi di Japantown Quindi La missione Che da loro È Infiltrarsi No È Infiltrarsi A Japantown E E Rapire la figlia Anzi Mettiamo la frase E Cercare E Rapire La figlia O Morire Nell'impresa Or Daint Andiamo a vedere Come è fatta Japantown Perché Allora Visto che abbiamo Già messo Nell'altra volta Sì Certo Certo Infatti Per quello Visto Che Non C'è Visto che abbiamo Già messo Nella prima sessione Un combattimento Per strada Non andrei a ripeterlo Perché sennò Diventa monotona Andrei a vedere Più che altro Come è fatta Japantown Quindi vediamo un attimino Dov'è Japantown Andiamo Nel Qua Le zone Benvenuti a Night City Luogo importante a Night City Ed intorno Andiamo a 283 Scriviamo Japantown Vediamo cosa Viene fuori 283 Control F Japan Ok Una città Di quartieri Vediamo Japantown Vediamo al prossimo Avanti Dove mi porta È a Little Asia Ok Allora Japantown Il rivarcio centro Di cultura giapponese La porta per Pacifico Vecchia Japantown Ok Un tempo vero centro Culturale giapponese Che cade Nell'anarchia Durante la quarta guerra Corporativa La maggioranza della popolazione È statunita a Watson E la zona È quasi disabitata A parte le gang Bello Allora Qua ci sono I veri duri Di Night City Kenshiro Saeba Ex solitario Che servì nella guerra Sudamericana E lavora come Investigatore privato All'Italia Europe Dove è stato Spominato Cacciatore notturno Anni fa Dove Perché la causa Si va Raffucoseta Nascondersi per anni A Japantown È un devone Con la pistola È un uomo Che è meglio Avere della propria In uno sconto Ha molti contatti Con le forze De l'ordine Ma non tutti E provano i suoi metodi Buttiamoci dentro Anzi Kenshiro Saeba Come aiuto Dei Dei giocatori Possiamo inventarci Cosa bella Possiamo inventarci Allora NPC Presenti Nella One shot Kenshiro Saeba Perfetto Allora Per la campagna Ho fatto la mappa Di Nascity Con i token interattivi Per i diversi luoghi Questo da un senso Immersività Molto forte Player Minchia Una parata Come i Cyborg In 1977 Allora Sirtalos Una cosa molto importante Cyberpunk Red È ambientato nel 45 Quindi 32 anni Prima di 77 Mentre In 77 C'è già Japantown Ricostruita Ed è un quartiere Molto visitabile Nel 45 È molto Alla Non dico Alla Disfatta Ma è molto Incasinata Fioglia Grazie Sì tanto ragazzi Dopo sto qua Lo correggiavo Sì esatto È una combazzone Esatto Esatto Pugnanus Esatto Esatto È pieno di feccia Esattamente C'è un casino Tra le bande Per quello ci sta Che magari fa lì Con un gang Allora Decidiamo il nome Di una gang O possono essere I Tiger Com'è che si chiamavano Tiger qualcosa Non mi ricordo Tiger Clothes Con un membro Dei Tiger Clothes Allora La figlia Di De Angelo Olivia De Angelo È Innamorata Di No 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 Lasciamo proprio Con i Tiger Woods Con i Tiger Clothes Ah una seconda The Gang Bello Mi piace Come li ha chiamati Dragon Breath Ok Dragon Breath Mi piace La figlia De Angelo È innamorata Di Don Buro Yojimbo No Don Buro Si chiama già De Angelo Come la chiamiamo Yojimbo Ce lo voglio mettere Per forza Kisaki Yojimbo Vai Kisaki Yojimbo Affiliato De Una gang Segreta Della Rasaka Che Vuole Prendere Il controllo Sulle Are Di Japan Town Troppo In mano Ai Tiger Che si sono Staccati Dalla Rasaka Grazie Grazie Massimiliardo Grazie mille Per il sub Keizuke Yojimbo Bello Mi piace più È più bello Di Kisaki Keizuke Keizuke Yojimbo Perfetto Allora Ah beh Yusaki Yojimbo Ragazzi C'è nel senso Chi ha giocato Chi ha visto Chi ha letto Il fumetto È un capolavoro I Tiger Si sono staccati Dalla Rasaka Nella lore I Tiger Si sono staccati Dalla Rasaka Prima facciamo parte Dalla Rasaka Poi si sono staccati Dalla Rasaka Allora I Dona Allora Quindi abbiamo detto Japantown Seconda scena I giocatori Allora Per esaltare i giocatori In In Cyberpunk È bello avere le armi Avere le armi E spaccare tutto Sì Vabbè Ovviamente Ovviamente Considerate che la Rasaka Per come veniva conosciuta Non esiste più Ci sono queste microcorp Non ci sono più le megacorp Ci sono le microcorp Che in realtà Sono comandate Da queste eminenze grigie Che sono Le megacorp Però ufficialmente Non ci sono Esatto Esatto Se non si esagera Insempro Quindi Allora Prima di partire Per Japantown De Angelo Mette Mette a disposizione Dei personaggi Tutto il suo arsenale Fate scegliere Ai giocatori Ai giocatori Quello che vogliono Per esagerare Farei scegliere loro Considerate Vediamo sul manuale Così metto anche la pagina Pagina 4 Vediamo un pochettino Combattimento a distanza Combattimento in mischia Allora Dovrebbe essere Vita quotidiana Che armi porti 321 Allora Allora Pagina 341 Pagina 341 Allora Io più che dargli le armi Gli darei il contatto Dello fornitore Tipo il gestore Del second commandment Allora Sì però Docta Se sono stati conciati male Hanno usato un sacco di proiettili Cioè io gli direi Che gli darei qualche medikit E E E qualche arma Considerate Questa non è una campagna Questa qua Era una one shot Che diventa una b shot Quindi Ci sta a sgravare Specialmente Se pensiamo Che questo qua serve Per entrare nel Nell'idea di cyberpunk Io gli metterei Come contatto Kenshiro Saeb De Angelo Dà loro Il contatto Di Kenshiro Saeba Iconico Di CP Red Red Che deve Un favore A De Angelo Così viene spiegato Ma diventa troppo lungo Docta Considera sempre questo Io ragiono sempre Per Il scene Grazie Sb Per essere arrivato Subito sul bot E A disintegrarlo No io farei De Docta Gli fa La classica guida Del quartiere La classica guida Del quartiere No Quindi se loro sono Lì a A Night City Kenshiro Saeba Gli fa la guida Del quartiere Gli presenta Ai Tiger Che è il nemico Del tuo nemico E mio amico Quindi che si alleano Con i giocatori E vanno A spaccare tutto Nella sede Nella sede Dei Dei Dragon Breath Allora Arrivano a Japantown E incontrano Kenshiro Descrivete Japantown Come un quartiere Di Tokyo No di Kyoto Più simile a Kyoto Di Kyoto Con molti elementi Caratteristici Ma tutto È Fatisciente È importante Perché state È fatiscente In giro C'è solo Criminalità Criminalità E vige La legge Del più forte Io personalmente I Tiger Clothes Ve li sono sempre Immaginati Come una banda Di motociclisti Non chiedetemi Perché Vedete le classiche Bande di motociclisti C'è Quindi vorrei Mettarli così Non so Se è che non mi ricordo Se sono Motociclisti Moto e Katanes Mi sembrava Che l'ho sempre giocato Molto stereotipato Come bisogna giocarlo Quindi non lo so Allora Tutto È fatiscente Come suggeriva Prima Docta Allora L'incontro Con Kenshiro Può Essere Di due tipi Un giro In macchina Che spiega Il quartiere E indica Il quartiere E indica Loro Il luogo Di ritrovo Dei tiger claws E Informa I pg Che al momento Non sa Dove Si nascondono I Dragon breath Poiché Sono Arrivati Solo Di recente In zona E via Ma si Ci sta Le doll Comunque Però le doll Non sono più In centro Come banda Pare che fa parte Di una microcorp Allora Scusatemi 308 Allora Vecchia Vecchia Japan Tower E' qua Per farvi capire Questo è il quartiere Noi ci troviamo A Little Europe Quindi devono fare La strada La strada La strada che va dal punto 12 Al punto 29 Come potete vedere La zona di combattimento Quindi c'è Non è tranquilla Ah Le Joy Gears Ok Ok Scusate Io pensavo Le doll E la microcorp Ok Perfetto Considerate Che sono molto Sono molto onorevoli E i Tiger Clothes Ricordatevi sempre questo Anche la rasaka Il concetto di onore È importante Per quanto Siano schifosi Yakuza E tutto quanto Però c'è Il concetto di onore C'è sempre Allora Torniamo a noi Kenshiro Può Accompagnarli Dipende se i giocatori Lo vogliono Se i giocatori Lo vogliono Prendete Le stat Di una guardia Oppure Può essere Solo Il tramite Narrativo Con cui Il GM Fa lo spiegone Buon appetito Buon appetito Kit Lo spiegone Quindi c'è questo qua Io li farei trovare Dentro Dentro una sala Di pacinco O cose del genere Comunque dietro La loro base C'è Come diamo il nome La loro base La loro base È Il Lo chiamerei Tecno Pavilion Mi piace come nome Golden Pavilion Silver Pavilion Lo chiamerei Golden Pavilion È il Golden Pavilion Una sala Da gioco No Torrijada è cinese Docta Non è giapponese Little Chira Little Chira È sopra Il Golden Pavilion È una sala Da gioco Mercato nero Che ci sia sempre vero Mercato nero È zona di contrabbando Zona di contrabbando Di Japantown Adesso È la cosa più importante Ovvero Come Cioè quando loro arriveranno Non è che I Tiger Clothes Stanno lì a vedere Probabilmente Vorranno attaccarli Com'è Che decidono Di prendere La loro fiducia Se con loro C'è Kenshiro Kenshiro è molto rispettato Da tutti Criminali oppure no È il cacciatore notturno Quindi Vorrei Dei consigli Da voi Com'è Allora ricordatevi Che In Cyberpunk Non è importante Avere solo le armi Ma come le si sa usare Com'è Un ottimo dono Bellissima idea Docta Un ottimo dono È Un'arma gigante Un qualcosa Un duello Con la katana Ragazzi Un duello Con la katana Con le digitolame Allora Facciamo così Trovate Una soluzione Assieme al tavolo Ricordatevi che i giocatori Sono la loro prima arma Assieme al tavolo Su come Presentarsi Se con loro C'è Kenshiro Può Suggerirgli Una parola D'ordine O un dono Da portargli Se non è con loro E non hanno pensato Di chiedergli Come presentarsi Possono sfidare Possono sfidare il loro capo A duello Importante Non deve essere all'ultimo sangue Se no Vige la regola Del Bushido Che I membri Del clan Devono Sfidare Chi ha Portato Disonore Disonore Al loro Interno L5A Vibes Sì sì Duello 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 Esatto 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 Sì Assolutamente Sir Allora Considerate Non so voi Chiedo a voi giocatori Quando giocate Cyberpunk Termo katana Sì sì Ci sono le katane Ci sono le katane Con Con la lava Laser Tra virgolette Con l'allarma termica Assolutamente Assolutamente Samuele Considerate una cosa Una cosa importante Che In Cyberpunk Si gioca Così sempre di notte Cioè nel senso Io pochissime volte Ho giocato di giorno Cioè Così sempre di giorno Si sonnecchia Si dormono Si è devastate Dalla sera precedente Ma si gioca Così sempre di notte È molto più Bello giocare di notte Che di giorno Tutte le luci Tutte le cose Poi è divertente Anche di giorno Però di notte È più divertente GK Tiger Seguono meno Le regole dell'onore Che in passato Erano problemi Con i nuovi arrivati Vuole mettere la prova Il capo sicuro E piacissima Sono rilegisci In maniera diversa Bello Doctor Altra cosa Oppure Uno dei membri Non si fida Non si fida Di loro E chiede Al capo Il permesso Di sfidarli Va bellissimo Assolutamente Bellissimo Ultima opzione Gare in moto Akira vibes Qualsiasi delle istruzioni È figa Proprio super Akira vibes Allora Una volta Una volta È riconosciuto Il loro valore Il loro valore Rispetto Possibile No associazione Così c'è Possibile alleanza Quindi qua Ruolate Cioè qua ruolate No ma Pietro Il fidanzato Non fa parte Dei Tiger Fa parte Dei Dragon Allora Verrà Rivelato Ai PG Il luogo Della base Dei Dragon Breath Che Guarda un po' L'ottone Madonna Che russata È Un vecchio Magazzino Della Rasaka Quindi inserite Il simbolo Della Rasaka Il classico No Il tre Le tre sfere Con Il fiore No Il fiore a tre Il magazzino Della Rasaka Tutto fatisciente Tutto quanto Qua Starà A voi Scegliere Quante persone Ci sono Perché o si fa Una mega battaglia Senza Senza quartiere Con esplosioni E via dicendo O È Tecnojappo Mi raccomando È Tecnojappo O Una mega Si arriva in moto Si spacca tutto C'è qua Quindi Che cosa Volete fare Facciamo che Vanno anche I tiger Con i personaggi Quindi C'hanno un gruppo Da 15 persone Vanno solo loro E si infiltrano In maniera silenziosa O spaccano tutto Io sarei Per far esplodere Tutto quanto Sì esattamente Quello che pensavo Sir Talos Ma Una roba Una roba del genere Allora Se fai Allora Se i tiger Non vogliono Invischiarsi Gli danno solo Tutte le informazioni Però Sarà quindi Un combattimento Più tranquillo Quindi più una cosa Di infiltrarsi Cioè mi infiltro Do una Rapisco la figlia E me ne vado via Se no Il Se invece Ci sono anche loro Si fanno Una lotta Di quartiere Cioè tipo Guerriere della strada Tipo i warriors Quindi Che cosa possiamo fare? Cosa preferite? Ditemi che io poi scrivo La due Guerra di quartiere Facciamo qua Facciamo un poll Qua ci sta il poll Perché così almeno Allora Combattimento Con i dragon Guerra di quartiere Oppure facciamo Un'infiltrazione Silenziosa Va bene Entrambe case Ricordate di questo Mettiamo due minuti Così abbiamo Abbiamo il nostro La nostra fine Della nostra sessioncina Semplicissimo La zona dei tiger I dragon Li seguono Allora i tiger Combatton Con il costo della banda Oh bello Docta Possiamo fare Che l'infiltrazione Sicuramente andrà male Loro scapperanno Tornano verso i dragon Tornano verso i tiger E lì I tiger Finiscono gli altri E lasciano In vita Solo il figlio del boss Allora Vediamo come sta andando Però vediamo che cosa dicono Ah 50 e 50 Minchia ragazzi C'è proprio In realtà così Se finisce così È perfetto C'è persone Combattono E poi scappano Quindi c'è In realtà Ci sono entrambe le cose No è passato Guerra di quartiere Uno avessi un voto in più Però è bello Fare entrambe le cose È molto bello Fare entrambe le cose È molto divertente Allora Facciamo entrambe le cose Tanto c'è No proseguere In quartiere Eh no Spacchiamo tutto Niente Sta vincendo Lo spaccare tutto Quindi mi sa Che si alleano Già dal principio Intanto sto pensando Perché possiamo fare Allora Arriviamo tutti quanti In moto I dragon I dragon Se ne accorgono Escono fuori Combattimento Tra le moto Quindi un casino Allucinante Tipo mega Cavallerizzi Che si incontra Con le moto Con la classica Digito Con la Termocatana Per terra Che fa le scintille Ma dal fumo Dell'asfalto Che viene sciolto Guarda in quartiere Ha vinto Allora I tiger Decidono Di dare Manforte Ai personaggi Essi dirigono In una dozzina Di loro Verso Il Il vecchio Magazzino Della Rasaka Arrivando Trovano La gang Dei dragon Pronti Ad accoglierli Qua mi sto immaginando Tipo Clown Contro Contro gang Di akira Cioè Quindi capsule Contro i dragon Contro Contro i clown C'è qualcosa Del genere Vediamo un attimino Scusami Torniamo qua Vediamo che stat Mettere Perché qua metterei Delle stat un attimino Più cazzute Gang Gang In Night City 308 4 385 Andiamo E andiamo avanti Da 385 In poi Ok 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 Eccoli qua Allora Gang Gang Di strada 25 Guardia Giurata Guardia Giurata Booster Guardia Del Corpo Metterei Un po' Di Booster E come Il loro Capo Qualcosa Di più Cazzuto Un Piromane Cyber Psicotico E Bello Agra Perché Lancia Granate C'è Un Battipista Metterei Un Battipista Allora Mettiamo Allora Inseriamo 10 Booster Normali Normali Guarda Stat Sopra E Il Battipista Come Loro Capo Metterei 12 Buster Normali Come Sono Gli Altri Battipista Come Loro Capo La Figlia Di De Angelo E Assieme Al Battipista E Non so Se Dagli Stato Oppure No Perché Se Gli Do Degli Stato Loro Potrebbero Ucciderla Quindi Assieme al Battipista Non gli darei stat E Non le darei stat Non le darei stat Onde evitare Che la Ammazzino Cioè Sarebbe una cazzata Ammazzarla Sarebbe veramente Una cazzata Descrivete Le Gang In maniera Molto Iconica Con Spolverini Con Kanji Innesti Maschere Da Oni Trucchi Kabuko Kabuki E Ovviamente I Rezumi Cromati Senza i Rezumi Non è una gang Allora Il combattimento Deve essere Molto Scenografico Quindi mettiamo Combattimento Iper Scenografico Sta Sta A voi Decidere Se Eliminare O meno Eliminare O meno Il capo Dei dragon Che Chiameremo Appartemente Le stelle stat Del battipista Scusatemi Ottone Sta russando Come un porco Non so se lo sentite Ma sta facendo Veramente Eccolo qua Così abbiamo Anche Le start Del battipista E via Dicendo Mi sa Pietro Che devi Vederti Un attimino La La Lore Di Cyberpunk E nel futuro Non ci sono Samurai Storici Per questo Allora Aspetta Sai Bell'inizio Perfetto Per la Campagna No Io Farei Farei Com'è che lo Chiamiamo Chiamiamo Yamato Com'è che lo Avete chiamato Yamato Mi piace Allora Climax Bisogna Concludere Sempre Le campagne Con un Climax O con Qualcosa Che Vi facciamo Dire Oh mio Dio Ma Cosa è Successo Allora Avete Già chiamato Chiesuke Yojimbo Era Chiesuke Yojimbo Il capo Ragazzi C'è Vedete Keizuke Yojimbo Giusto Ragazzi Avete ragione Scusatemi Sono un imbecille Avete ragione Voi Climax Se i giocatori Uccidono Keizuke Proprio Mentre Vedono Il corpo Esamine A terra Ricevono Ricevono Una chiamata Da Kenshiro Se Non è con Loro O Dal fixer Che Gli Ha dato Che ha dato Loro l'incarico Che ha dato Loro L'incarico Ed è venuto A conoscenza Del casino Che hanno fatto Di non Uccidere Assolutamente Il capo Keizuke Poiché È Il figlio Bastardo Del capo Della rasaca Questo È L'inizio Perfetto Di una Campagna Non facendo Uccidere La figlia Di Di Angelo Ma perché Mettere La racè In questo Caso qua Ci sarebbe Una caccia Totale Contro Contro I personaggi Inoltre Ci sarebbe Una forma Dove Per forza I nemici Della rasaca Si allerebbero Contro i giocatori Per cercare Di destabilizzare Il più possibile Considerate Che questa Sarebbe una campagna Estremamente Mortale Una campagna Estremamente Mortale Poiché vuol dire Che La rasaca Ha Era L'associazione Era la corporazione Più potente Che esistessa Quindi vuol dire Che hanno Le mani in pasta Con tutto Con tutto Quanto Direi Che questa È la fine Perfetta Di questa B-Shot Perché Possibili sviluppi I tiger I tiger Cercano Di cacciare I giocatori Per consegnarli Alla rasaca Facendo Il doppio gioco Il clan De angelo Può fare lo stesso Può allearsi Con loro Tutte Le corp Daranno Ai pg sostegno Tutti I cacciatori Di taglia Daranno La caccia Ai giocatori Oppure La rasaca Stessa Costringerà I giocatori A fare I lavori Più sporchi I lavori Più sporchi Onde Evitare Di Uccidere Loro E Tutti Quelli Che li conoscono Questa è una bella campagna Conto la rasaca Una bella Bella Oh ciao Andre Benvenuto Una bella Campagna Totale Conto la rasaca Direi che abbiamo finito la nostra one shot Anzi La B shot In questo caso Perché abbiamo continuato La one shot La one shot Precedente Quindi c'è Mi sembra che sia Un ottimo O pessimo inizio Dipende dai punti di vista Allora Mi ha triggerato Molto figa Sì Veramente Sempre avete avuto Delle bellissime idee Merito vostro È una delle cose Per cui amo Scrivere Le one shot Assieme È proprio per questo Vengono fuori delle idee bellissime Ci abbiamo messo Neanche un'ora A scrivere una one shot Alla faccia di chi dice Che preparare le sessioni È molto lungo È molto complesso Per me è la cosa Una delle cose più divertenti Di essere il game master Per preparare le sessioni Una cosa che mi piace È da morire Quindi secondo me È venuta fuori Veramente una bisessione Volete aggiungere qualcos'altro Così abbiamo gli ultimi minuti Per la live O avete delle domande Inerenti alla live Ah Da parentesi Appuntamenti della settimana Anche se siamo al weekend Allora Questa sera Sarò Sul canale Twitch Di Di Dario Per il suo pub Per fare un po' di bordello Quindi se stasera Qualcuno è libero Mi trovate sul canale Twitch di Dario A fare casino Dopodiché Domani La mattina Ci sarà La La mia campagna Di Di Cinque anelli La mia La mia campagna privata Di Cinque anelli Però la facciamo su Discord Tutti quanti Possono venire ad ascoltare Ho usato un sacco di props Un sacco di mappe Un sacco di cose Stiamo facendo la mia versione Nel palazzo del campione di Sveraldo Con membri di Con membri di Neat Games E Persone attive Della community Ci sono Come giocatori Sbini La Roby Batta E Albe Quindi tutte persone con cui io gioco Gioco molto spesso Domani pomeriggio Probabilmente farò Una sessione Di Fabula Chronicles Per chi non ha ancora avuto modo Di giocarci Naturalmente Come sempre Priorità E sub Quindi domani Ruolerò sia mattina Che pomeriggio Non vedo l'ora Mercoledì esce la nuova puntata Di Chronicles Molto figo Quindi ci sarà l'episodio 2 Di Fabula Chronicles Per chi non ha ancora avuto modo Di Chi ha avuto modo di giocare Il primo episodio Ci sarà la seconda avventura La campagna è sempre più sugosa E lunedì Torniamo Con Pranzo di ruolo Quindi c'è Insomma Ci stiamo preparando Per il Napoli Comicon Insomma ci sono un bel po' di cose Ragazzone ragazzone Sono le 13.55 Se non avete domande Ah quando è Faremo Tank Satisfied Per Vampire the Mask Spero il prima possibile Lo so che lo sto rinviando sempre Ma perché vorrei che ci fosse con me Il curatore di linea Quindi c'è nel senso Che però È un avvocato Quindi è un attimino incasinato Per le pause pranzo Però Se non c'è Nel giorno di un pari di settimane La farò io Detto ciò Rulatrici e rulatori Mie cari Ciumbatta E mie cari Ciungs Vedo che Se volete rimanere in contatto Con noi Ci potete trovare Su tutti i nostri canali social Specialmente Siamo molto attivi Su Telegram E sul gruppo Telegram Anche di Fabola Ultima Se volete farmi domande Personali a me Mi trovate su Su Instagram Io rispondo a tutti Quelli che mi scrivono Quindi c'è Siete un botto Però rispondo a sempre A tutti quanti Mi fa sempre molto piacere Quindi io direi Grazie mille Per questa Oretta E quanto tempo Che siamo online Questa oretta È un quarto Che abbiamo passato assieme Abbiamo scritto una one shot Molto bella La potete trovare nel link Che dopo metteremo Nella Nella live Sia di Twitch Sia nel VOD di Twitch Sia in quella Di Youtube Ci sono Considerate Un botto Di persone Che fanno tavoli Su Discord nostro Quindi se volete giocare Potete venire su Discord A giocare Io vi ringrazio Per essere stati con noi Questo pomeriggio Vi do appuntamento A domani mattina Sul nostro Discord Se volete seguire La nostra campagna Domani pomeriggio Sul nostro Discord Per Fabola Chronicles Anche qua lì Sarà aperta al pubblico Quindi quando faccio Le campagne io Sono sempre aperte Potete venire ad ascoltare Noi ci vediamo Sul nostro canale Telegram Tra poco Su Discord Questo weekend E su Twitch Lunedì Vi ricordo Di ruolare Duro sempre Durante il weekend Altrimenti siete Dei marchino Che cercano Di traparmi le ali Quando sono in ufficio Grazie mille a tutti E buon weekend Un bacio gigante A tutti e a tutti